27 volte dalle 5 del mattino alle 22 con 15 minuti di attesa, due o tre semafori persi che vogliono dire 405 minuti e ben quasi 7 ore di coda. Questi dati del passaggio a livello di Porta Cerese dove camion e automobilisti passano in coda molto del loro tempo. Da qui il progetto del sottopasso realizzato da RFI che è stato presentato questa sera. Tra i sottopassi ciclopedonali che si affiancheranno a quello per le auto, uno a fianco, uno che collegherà via Vise al nuovo parco del Tè e uno che affiancherà il sottopasso di Viale Montello verso il parcheggio Kennedy. Da Porta Cerese poi spariranno tutti i semafori. Abbiamo lavorato tanti anni, ci siamo riusciti a portarla a casa e adesso si fa perché le cose che vogliamo fare poi si fanno. C'è anche il tempo per fare gli ultimi accorgimenti, però si corre spediti, i soldi ci sono, una vita che si aspetta e si farà esattamente così anche per Gambarara perché anche per quello i soldi ci sono e anche per quello il progetto sta marciando a velocità spedita e anche su quello i lavori inizieranno alla fine del 2023, massimo inizio del 2024. Il progetto prevede la partenza dalla rotonda di via Donati, ad un certo punto via Parma si biforca, una rimane al servizio di quella zona di abitazioni, l'altra entra nel sottopasso che sarà un po' più spostato verso via Visi. Si passa sotto la ferrovia poi si risale, per via Brennero ci sarà una carreggiata dedicata, una rotonda vicina allo stadio smisterà il traffico sulle vie limitrofe. Tra una decina di giorni la conferenza dei servizi con le osservazioni inizio ai lavori previsto entro la fine del 2023. E naturalmente siamo qui per incontrare i cittadini, adesso partirà la conferenza dei servizi, ci sarà modo durante la conferenza dei servizi come comune anche di presentare osservazioni che già stiamo studiando con RFI, alcune sono state anche proposte dagli stessi cittadini, provare a restringere la sede stradale per riuscire a fare più spazio anche per una barriera verde che metteremo. Un incontro animato quello di questa sera con molti cittadini che hanno espresso i loro dubbi in merito al progetto e fatto domande. C'è chi lo vede come un'opera mastodontica, quasi autostradale, chi invece ha paura che possa creare ancora maggior traffico, oppure chi lo vorrebbe tutto interrato per non vederlo.